Buongiorno dal Tg1, siamo davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Quattro anni fa, all'alba del 14 marzo, Papa Francesco entrava per la prima volta in questa chiesa come Papa e si fermava davanti all'icona bizantina della Madonna, Salus Populi Romani, salvezza del popolo romano, per pregare dopo la sua elezione a Pontefice. In una recente intervista la civiltà cattolica ha detto da quel momento ho avuto un'esperienza di pace profonda che non mi lascia più, non so spiegare. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.